Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi ho deciso di fare un video diverso dagli altri insomma, non proprio dagli ultimi, però vabbè, un video non serio, quindi non prendere questo video seriamente, è un video molto così alla leggera, e questo video appunto nasce da una domanda che mi ha fatto una ragazza sotto il mio giveaway, quindi ne approfitto per dirvi che sul mio canale è aperto un giveaway che terminerà il 30, oggi stavo a luglio, 30 o 31 luglio, aspetta, allora, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28, ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31, ok, guardate che passa tutto, che mi guarda, benissimo, quindi lui ha 31 giorni, benissimo, continuando con il video, allora, questa ragazza mi ha scritto appunto, vabbè, oltre a dirmi partecipo e cose così, mi ha scritto, mi ha scritto, mi ha fatto questa domanda che mi ha chiuso e ho detto, perché non fare un video l'ambulanza che passa, ok, quindi mi ha scritto, mi ha fatto questa domanda e mi ha scritto ti piacerebbe, non mi ricordo precisamente la domanda, però tipo, ti piacerebbe diventare un vampiro, una sirena, un lupo mannato, tipo questi personaggi fantastici, no? e ho detto, ok, faccio un video, perché? Perché appena ho letto sirena, aia, mi è venuto subito in mente, accaduto, non so se lo conoscete, comunque è l'unico telefilm che io vedevo da piccola, cioè non l'unico, però vabbè, da piccola vedevo su telefilm, che parlava appunto di sirena, quindi ho detto, faccio subito ispirato anche un po' a loro, in cui su telefilm facevano vedere appunto, cioè fanno vedere, ci sono tre ragazze, e queste tre ragazze hanno un segreto, ogni volta che loro toccano l'acqua diventano sirene, allora, io se dovessi diventare sirena, non mi piacerebbe diventarlo così, cioè nel senso, toccando l'acqua e divento sirena o no, perché sarebbe tipo uno stress, una cosa impossibile, cioè uno non vive più, almeno che non lo sa tutto il mondo, però se dovessi essere un segreto, cioè no, perché tipo, che ne so, andare al mare con un'amica, non ci puoi andare perché, perché, perché dite occhi l'acqua e diventi una sirena, cioè no, oppure se fa la doccia e diventi una sirena, no, meglio di no, quindi mi piacerebbe diventarlo quando lo voglio io, quindi desiderandolo, tipo, sì, io sto a mangiare la pizza, desiderando se la sirena divento una sirena, facendo un esempio, quindi desiderandolo, sarebbe una cosa più, più, come si dice, più maneggiabile, maneggia, vabbè quello là, e quindi sì, in questo modo, poi altre cose, allora, secondo me uno dei dati più, cioè una cosa, la cosa più bella nell'esserlo sarebbe il contatto con l'acqua, quindi poter nuotare ore e ore tutta acqua, quindi a una velocità assurda, quindi veloci, veloce, 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 oppure tipo, che ne so, tipo, tipo, ah, respirare tutta acqua tantissimo tempo, oppure esplorare tutto l'oceano, i mari, cioè sarebbe una cosa fantastica, quindi la cosa più bella sarebbe rapporto con l'acqua, poi, invece, i lati negativi, non lo so, come ho detto prima, toccare l'acqua sarebbe un po' uno stress, cioè, diventare sirena ogni volta toccando l'acqua, sarebbe una ruota di palle, oppure, oppure, non lo so, non mi vengono altri lati negativi, quindi magari, in un commento lo scrivetemi, secondo voi quali sarebbero i lati negativi e i lati positivi e ditemi se concordate con me, insomma, su quello che ho detto, tutte cazzate, però vabbè, ditemelo stesso, se concordate con le mie cazzate, ecco, niente, quindi, come ho detto il video, vabbè, è terminato, volevo giusto dirvi queste cose qua, ah, no, sì, quindi riepilogando, rispondendo alla domanda di questa ragazza, sì, mi piacerebbe diventare una sirena, però non toccando l'acqua ogni volta, cioè, no, quindi, non lo so, desiderandolo quando voglio, lo desidero e, ecco, e lo divento, quindi così, e la cosa più bella sarebbe il contatto con l'acqua, come ho detto prima, e la cosa negativa, sì, però se dico questa cosa, no, perché, se io ho detto prima che, lo voglio dire, vabbè, insomma, facciamo le cose che, la cosa negativa non esistono, ok? È tutto positivo, e se voi avete qualche cosa negativa, scrivetemelo in un commento, e niente, quindi, il video è finito, come ho detto prima, prendetelo alla leggera, non è un video serio, è un video per scherzare, sì, così diciamo, e, quindi, quindi sì, per scherzare, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, lasciatelo, mi piace lo stesso, i non mi piace, li fanno pagare, quindi non mettete i non mi piace, mettete solo mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo e commentate, e, 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 dimmi quale altro video vi piacerebbe vedere sul mio canale, io, niente, vi mando un grosso bacione, continuate a partecipare al mio giveaway che termine il 31 luglio, o, no, era il 31, sì, sì, e, niente, niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!